Una gara che è stata combattuta, duello su duello, è stata una volta precedente a tutto campo. Forse il paese sarebbe stato a vostro modo di vedere più giusto? Sì, sicuramente. Sapevamo di affrontare una partita rognosa, che comunque loro esprimono un ottimo calcio. Faccio i complimenti al mister, perché rispecchiano la sua persona. Potenzialmente oggi, a parte i primi 20 minuti dove abbiamo sofferto, ci hanno fatto gol nel nostro momento migliore. Stavamo uscendo fuori e sono stati bravi loro a sfruttare quell'occasione e portare a casa la vittoria. Sempre un minuto tantico per quanto riguarda il tuo ruolo. Sulla fascia noi cercavamo sempre la sua unità numerica, però come diceva anche il mister Orlando, prima con 4-3-3 lasciando i tre davanti, o con 4-4-4-3 con me, l'altra sinistra. Avete sempre cercato di controbattere appunto colpo su colpo. Dov'è che invece nella fase offensiva avresti volto fare la confusione o te? Noi alla fine abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Sapevamo i loro punti deboli, che era sfruttare la nostra rapidità in avanti. Ci abbiamo provato, comunque sapevamo che forse sulle fasce loro potevano concedere qualcosa, ma non siamo stati bravi a sfruttare quelle poche occasioni che oggi abbiamo avuto. Bene, grazie. A voi.